Sono stato in California per alcuni mesi per fare un corso di preparazione per diventare mediatore internazionale presso una società che si chiama Bridge Mediation LLC che è un istituto creato dall'avvocato Alessandra Sgubini che è un avvocato dell'Ordine di Milano. In senso lato le tecniche di ADR sono intese come Alternative Dispute Resolution Methods e sono praticamente molto ampie e si distinguono in tecniche di natura vincolante e di natura non vincolante, nel senso che quando si parla di mediazione in senso stretto in Italia ci si riferisce esclusivamente a quella che in America si chiama mediazione facilitativa, cosiddetta Facilitative Mediation, mentre invece nell'alveo delle tecniche di ADR ne esistono davvero parecchie. Il sistema americano è denso di queste tecniche e ce ne sono davvero tante e vengono introdotte dalla fine del 1800 con un atto che si chiama Interstate Commerce Act del 1887 che dà l'avvio a quella serie di rivoluzione normativa e culturale che si è sviluppata in America, quindi dalla fine dell'800 fino alla metà del XX secolo. Questo primo atto ha consentito di istituire un meccanismo di volontaria sottoposizione alle controversie tra le compagnie ferroviarie e i loro dipendenti. Questo è considerato il primo atto normativo che rivoluziona questa nuova cultura di pensiero, questo nuovo movimento che consente quindi di creare dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie al canonico processo in un tribunale. Un'altra fonte normativa molto importante è la Federal Arbitration Act del 1925 che è una legge sull'arbitrato federale che consente di utilizzare l'arbitrato nelle controversie di natura commerciale e in particolare poi ci sono state le attività più importanti in materia di mediazione dei DR si sono sviluppate negli anni 60 dove c'è stata anche la modifica di recente nel 1998, la modifica del titolo 28esimo della Carta dei Diritti sulla materia sempre della mediazione che ha stabilito che gli strumenti dei DR addirittura hanno la prevalenza rispetto a un'azione giudiziaria normale. Quindi è lo stesso giudice, cioè diventa quindi condizione di procedibilità andare prima in idea e poi successivamente eventualmente andare in giudizio. Io personalmente ho assistito a mediazioni negli Stati Uniti dove la durata è variabile, possono durare dalle 3 ore alle 6 ore alle settimane anche a dei mesi e sono gli stessi magistrati che rinviano se lo ritengono necessario durante un processo al mediatore per poter così risolvere la controversa in maniera diversa. Quindi la mediazione, oggi si è parlato tanto di mediazione, non voglio ripetere le stesse cose però riassumendo che cos'è, è un procedimento di natura volontaria che consente di dare il potere a questo terzo neutrale imparziale che si chiama mediatore che non decide nulla. Il mediatore facilita solamente l'incontro della volontà delle parti che insieme arrivano alla conciliazione. Questo è in linea generale, ripeto, il concetto di mediazione istituito nel nostro ordinamento giuridico attuale è il concetto di mediazione facilitativa, quindi una mediazione che consente di arrivare a questo accordo, una mediazione quindi non propositiva e non valutativa ma è un concetto abbastanza diverso. L'arbitrato invece, sappiamo tutti che il ruolo dell'arbitro invece ha un ruolo completamente diverso perché consente all'arbitro di produrre, di emanare una decisione su una determinata controversia, quindi ha un potere decisamente più ampio rispetto a quello di un semplice mediatore. Ci sono delle fasi procedurali nella mediazione americana nel senso che le parti non sempre vengono fatte incontrare, vengono fatte incontrare solamente se il mediatore lo ritiene necessario alla fine di un lungo processo, ci sono i cosiddetti caucus sessions dove c'è l'avvocato, supponendo che ci siano due parti, un avvocato con una parte, un altro avvocato con l'altra parte e il mediatore che praticamente si sposta da un'aula all'altra, da una stanza all'altra, generalmente sono stanze affittate in hotel dove si svolgono queste mediazioni e solo se lo ritiene necessario alla fine del processo potrà fare incontrare le parti eventualmente, così, firmare un accordo eventuale che possa poi portare a una soluzione. Esistono altre tecniche di EDR come la quick arbitration che è il cosiddetto arbitrato rapido che è caratterizzato fondamentalmente da un aspetto di oralità nel senso che ci sono pochi documenti scritti, tutta la procedura è fondamentalmente orale e è una procedura alternativa poco utilizzata e poi abbiamo l'I-law arbitration che è un arbitrato condizionato dove sostanzialmente l'arbitro ha un limite massimo e minimo all'interno del quale deve decidere una determinata proposta, quindi c'è un range di valore, si tratta ovviamente comunque di arbitrati che hanno come materia del contendere una somma economica ben determinata, ben definita. Quindi l'arbitro ha questi due limiti, un limite massimo all'interno del quale deve sapersi muovere e non può ovviamente oltrepassare questi limiti. Un'altra metodologia molto interessante è il Baseball Last Offer Arbitration che praticamente è una tecnica di EDR particolare perché presuppone che prima ci sia stata un'attività di negoziazione quindi già sviluppata dalle parti e che l'arbitro invece rientri in gioco solamente se si crea una situazione di stallo, quindi se l'arbitrato non può più proseguire, cioè se la negoziazione non prosegue allora ci si rivolge a quest'arbitro che dovrà decidere quale tra le due offerte sarà possibile, quale causa sposare. Quindi si presuppone un'attività di negoziazione ben avviata, uno stallo e poi l'intervento di un arbitro. C'è poi un'altra tecnica molto interessante che è il Rent a Judge, letteralmente sarebbe il noleggio di un giudice, quindi su richiesta delle parti la decisione della controversia può essere demandata a un giudice che generalmente è un magistrato in pensione oppure una persona che non svolge comunque più l'attività di giudice che viene pagato privatamente dalle parti. Poi abbiamo le Small Claims Resolution che sono le risoluzioni di piccole rivendicazioni, altra tecnica di ADR, una procedura abbreviata che è prevista generalmente per procedimenti molto particolari quali i liti condominali o i piccoli sinistri di lieve entità, quindi non parliamo di danni ingenti alla persona. Poi abbiamo la Dispute Review Board che sarebbe il collegio consuntivo tecnico che è caratterizzato dall'istituzione di questi comitati permanenti che gestiscono tutto ciò che attiene a un contratto di particolare complessità. Quindi il comitato viene istituito per analizzare gli aspetti complessi di questo contratto e le possibili controverse che possono insorgere dall'esecuzione di questo contratto. Quindi il comitato permanente ha lo scopo di chiarire le problematiche sull'interpretazione contrattuale di questo contratto ed evitare che si possano creare dei conflitti sull'interpretazione degli stessi contratti. Ricordiamoci che però tutto quello che viene deciso dai comitati permanenti non ha mai carattere vincolante, quindi è completamente non vincolante. Una delle ultime tecniche di DR è la Early Neutral Evaluation che è una cosiddetta valutazione preliminare in cui in questa procedura esiste questo terzo neutrale che generalmente anche in questo caso è un giudice in pensione oppure un avvocato anziano esperto in DR da parecchi anni che ha il compito di esaminare i fatti che sono oggetto di una controversia, ascolta le pari parti, i legali e fornisce una sua previsione su quella che può essere il tendenziale sviluppo di questa situazione se questo caso fosse deciso da un tribunale o da un arbitro. Quindi esprime un parere comunque non vincolante che consente però di capire come potrebbe essere andata questa situazione se ci si fosse rivolti a un giudice in un processo tradizionale. Poi abbiamo il partnering dialogue che è un incontro di partenariato. Solitamente questa procedura in questione tende alla valutazione di una disputa relativa alla gestione di un complesso progetto o di una joint venture, problema di natura finanziaria, problema di natura immobiliare, prima che però venga dato inizio ai lavori. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche in questo caso esiste questo terzo neutrale che ha la possibilità attraverso sessioni comuni o singole di poter realizzare degli obiettivi distinti, quindi senza prendere decisioni ma analizzando gli interessi di questa controversia, quindi capire quali sono i bisogni sottesi all'interesse che le parti dimostrano di avere all'interno di questo tipo di problematica che si spera non sfoci in un giudizio. L'incontro di partenariato serve anche per valutare la sussistenza e la volontà di intraprendere un dialogo costruttivo e collaborativo tra le parti, quindi per evitare comunque il giudizio. Inoltre è necessario per analizzare i possibili ostacoli che potrebbero indurre ad eventuali dispute future e comunque il concetto fondamentale è quello di dimostrare quali siano i vantaggi e gli svantaggi di un atteggiamento che possa tendere alla creazione di una situazione di conflitto o di scontro. Direi le ultime due sono il summary trial che sarebbe il giudizio consultivo. È una procedura molto interessante, poco utilizzata, è una procedura anch'essa non vincolante che si sostanzia in una breve udienza tra cui ci sono i rappresentanti delle parti che espongono i fatti oggetto di una lite di fronte a una giuria che viene direttamente nominata dal giudice e la giuria ha un potere fondamentale perché ha il compito di giudicare con verdetto però non vincolante quella che sarà la base di una successiva ed eventuale negoziazione. In mancanza di questo accordo comunque la causa sarà trasferita dinanzi a un tribunale col processo ordinario. L'ultima delle forme di IDR si chiama mini trial che sarebbe il mini processo. È una forma di IDR molto complessa ed è praticamente un piccolo processo in miniatura dove vengono analizzate, non esiste il procedimento di discovery che è il procedimento che consente di acquisire le prove poste a fondamento delle domande all'interno del processo ma esiste la presenza di un terzo neutro che è generalmente un mediatore e l'esempio che mi viene più sovente fare è quello di magari una controversia tra due grosse aziende dove magari il conflitto nasce tra due dipendenti di queste aziende. Nel mini trial vengono come rappresentanti legali di queste due aziende, ci sono i senior manager di ciascuna azienda, anche in questo caso esiste una giuria che provvederà alla decisione e anche comunque questo tipo di giudizio, questo tipo di procedura non produce nessuna natura vincolante nel senso che comunque le parti poi sono liberi di rivolgersi ad altre strade. Io concluderei qui perché comunque la giornata è stata interessante però non mi dilungherei oltremodo. Vi ringrazio tutti per l'attenzione che avete prestato anche a nome dell'Avvocato Mugnano.